Buongiorno da Cassa Tuttonet, oggi vi proponiamo la ricetta della pasta sbriciolata, così chiamata proprio perché si presenta come un insieme di briciole ed è la base per preparare la sbriciolata di ricotta e cioccolato oppure alla frutta o con crema pasticcera. Vediamo cosa occorre, 300 g di farina, 110 g di burro, un uovo, 100 g di zucchero e una bustina di pan degli angeli. Mescoliamo il tutto in una terrina, lo zucchero, una bustina di mievito e a secco mescoliamo il tutto. Ben bene! Poi aggiungiamo il burro a temperatura ambiente e l'uovo intero. Dopodiché impastiamo. Si tratta di una ricetta molto semplice e facile da preparare. Quando la pasta si presenta in questo modo è pronta per l'uso che ne vogliamo fare. Sono tutte briciole, da Cassa Tuttonet, alla prossima ricetta! Grazie! Grazie!